La voce della ragione e anche della regione, Emanuele Filoni, vi danno il benvenuto all'episodio numero 17, targato EVW Fury. Il nostro JM di Fury, Mauri, sembra aver ingaggiato qualcuno per il proprio roster. Di che si può trattare? Chissà. Scotchman contro Highlanders, IVW Tech Team Titles, match che parte subito in salita per il Scotchman. Visto che devono scalare una vera e propria montagna umana, d'altronde l'alchimia e le loro combinazioni sono di un altissimo livello. Con Sawyer che fa il passo sull'eper ring, Nenna deve connettere con le sue mosse migliori, a partire dal doppio mirto. Quando tocca a Sawyer quest'ultimo tenta di tenere alta la bandiera, ma la forza e la prepotenza degli Highlanders, dei campioni, è dannatamente troppo over per gli Scotchman. Gli Highlanders trionfano e dimostrano perché sono i nostri campioni di coppia. Daemon vs. Steel Mask Il match della serata Dopo i primi minuti in sordina, Steel Mask prova a tirar fuori la testa dalla sabbia. Prima con un big splash, poi con una panama sunrise. Daemon tira fuori tutta la sua potenza, mista al suo stile rissuoso, contro lo stile atletico e preciso di Steel Mask, speciale con le sue ginocchiate, sperando che la ginocchia d'acciaio veda segno. Il problema è che Daemon si dimostra essere un atleta molto più determinato e violento del solito, uno che non si fa problema a colpire anche contro lo spirito del ring, tanto va a connettere con una power bomb devastante sull'epron stesso. Ma sul ring dal nulla è quella Twist of Fate, di Musk. Uno, due e non c'è il tre, soltanto due. Daemon le prova tutte e persino acrobazie dall'interno all'esterno del quadrato, riesce persino ad evitare la ginocchia d'acciaio dei rivali, mettendo a segno il tornato party. Ma ancora una volta è soltanto contro i due, il match prosegui e allora Daemon si cucca non solo la finta alla Ronaldinho di Steel Mask, ma anche un'altra Twist of Fate. Ancora una volta kick-out di Daemon dell'ex End of Party. Incredibile, it can be possible. E allora, poco dopo, va a segno con la ginocchia d'acciaio. E quando va a segno Steel Mask con la ginocchia d'acciaio, ragazzi, sembra essere la fine per tutti. Ma non per Daemon, soltanto contro i due. Un match veramente epico tra i due che però, come ogni cosa, ha la prova fine. E la fine di questo incontro consisterà nella doppia tornato party di Daemon che Daemon rifila ovviamente a Steel Mask. Uno, due e tre. Daemon esce triunfante. Daemon vince questo epico match. Nel post-match, intervista di Alan Mack con Daemon. Intervista che avvita a breve perché arriva Abel Brown che ricorda come il momento peggiore della sua carriera sia stato quando alle series, ha fatto squadra con l'ex End of Party. E di come, magari avresti il Mena, sarà per Daemon la sua End of Party. Chiara minaccia, chiara sfida, lanciata da Abel Brown verso Daemon. Tiger Man contro il Neo Campionale Core. Antox Reforo. Rimatch non titolato tra i due, dopo la grandissima conquista della cintura hardcore di Refor in quel di Remission Chamber. Maori ha permesso quest'oggi al Neo Campionale Core di rifare l'impresa contro Tiger Man. In un match normale in attesa della grande sfida di Verstermena, quando allora ci sarà in pallio la cintura. Tecnicamente End of Party riesce a dimostrare, sin dalle prime fasi di match, di essere un ottimo atleta. Fisherman Neckbreaker, German Subletz, addirittura la sua SOS. La sola cosa che ci ricorda è che quel lottatore mascherato si chiama Tiger Man e la sua incredibile resistenza, tanto che neanche la Dragon Shot lo porta alla vittoria. Refor sta per provare allora un altro Dragon Shot. Avendo il match in pugno, Maiko che dal nulla sbuca l'arabo Mohamed Amir, con una mazza da Kendo, fa colpire entrambi i contenenti. Il messaggio di Amir è chiaro. Anche egli vuole essere della partita. Anche egli vuole il titolo di campione al core. Il neocampione europeo Legend Paul affronta un Frost che ultimamente non sta trovando grandi successi, non si sta togliendo grandi soddisfazioni. Questo match è una replica di molti altri match di Frosta. C'è da dire che Frosta ha controllato buona parte dell'incontro, ma al tempo stesso, dopo la mole di manovre incassate, anche egli deve abdicare di fronte al neocampione europeo. Dopo aver ringraziato i fan, Legend Paul viene però aggredito dall'ex campione europeo MS37, che giustamente rosica bestia e giustamente vuole il suo rematch. Il neocampione del mondo di Fury, Catastrofi, si presenta sul ring e prende la parola raccontando tutta la sua storia, tutta la sua carriera sin dal 2018, dal suo debutto contro Ryan, un debutto schiacciante, un susseguirsi di match che non hanno portato ad essere il mostro per eccellenza, una per esempio contro addirittura Morris, fino però alla sua incredibile sconfitta, la sua indirebile e incredibile sconfitta contro Mad Max, ricorda la sua guerra contro Ivor Rage, la sua vittoria nella cella infernale, ricorda persino la sua guerra contro la Darkness Family, l'incasso di Thunder Paul e danni di Catastrofi e la disfatta contro Moloch nella cella. Ma Catastrofi ammette di aver capito i suoi stessi errori, il suo stesso egoismo è stato il suo principale errore. Ora è tornato più consapevole che mai e suggerisce a suo modo a tutti di pregare se avessero voglia di affrontarlo. E chi ha le palle per vedersela con Catastrofi, niente meno che l'impavido per eccellenza Andy Turner, che accetta la sfida per un match titolato contro il mostro della WWE, Andy Turner vs Catastrofi, World Heavyweight Title on the Line. Prima di parlare del mini-vento ringrazio e saluto anch'io il buon Alamec e il nostro J.M. Maury, perché mi hanno citato. Quindi grazie ragazzi, vi voglio bene. Sin dal principio Andy Turner dimostra come il coraggio e la fierezza siano i suoi cavalli di battaglia, grazie a una rapidità fuori dal comune, ma la strapotenza di Catastrofi è qualcosa non alla sua portata, soprattutto quando Catastrofi lo devasta con l'Alphamere Waterslide. Ma l'errore del mostro è quello di non provvedere immediatamente allo schienamento e questo dà ovviamente fiducia all'esercito di Turner, che si fa sentire più che mai quando Andy esegue un superplex all'esterno del quadrato. Il tavolo, per fortuna, non va in mille briciole. Tuttavia Andy non riporta subito il corpo di Catastrofi nel ring. Ci mette un'eternità a risalire, tanto che Catastrofi ne approfitta. E Armageddon, uno, due e soltanto due. Il match però è sulla strada del mostro. Il match però viene controllato continuamente dal mostro. Turner ci prova con un comeback, ma non riesce a portarlo a segno, a portarlo a termine. Catastrofi non de morte. Lo mette nella sua Apocalypse Slam e lo devasta. Ancora una volta, o meglio, per la prima volta, ma ancora una volta Catastrofi dimostra di essere il mostro per eccellenza della WWE. L'episodio termina con l'apparizione dall'oscurità di King Reaper, che è chiaro come per Vestelmania, voglia un match titolato contro Catastrofi. Che match che ci aspetterà tra King Reaper e il mostro delle WWE. Catastrofi.